Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati al Fatto. Oggi non parliamo di politica, stacchiamo un attimo dalla campagna elettorale che è in corso per le amministrative e per le europee per parlare di cultura, perché è iniziata l'estate dei grandi eventi e ad aprirla, come sempre in Abruzzo, è quello più rilevante in assoluto, il premio Flaiano. Abbiamo nei nostri studi Carla Tiboni, Presidente del premio Flaiano. Buonasera, Avvocato. Buonasera, buonasera. Allora, con lei facciamo il punto, in realtà di ciò che già c'è stato, vale a dire, per voi dal punto di vista logistico e organizzativo, già tantissimo lavoro che è iniziato il giorno dopo il grande cinquantenario, quindi mesi e mesi di lavoro e poi anche i primi eventi che sono già svolti o sono in corso di svolgimento in queste settimane. Un Flaiano tutto l'anno, come sempre, anche in questa 51esima edizione. Sì, direi un palinzesto culturale che si sviluppa attraverso tutto l'anno e questo diciamo che è una conferma della volontà dei premi Flaiano di non fermarsi soltanto agli eventi, diciamo, conclusivi, come ormai è dimostrato da anni. Stiamo lavorando, ci sono già stati degli eventi, come ha detto lei, c'è stato il festival del cortometraggio con partecipazione di oltre 2000 paesi da tutto il mondo. Cortometraggi, devo dire, bellissimi, straordinari, attuali. C'è stato poi il festival della fotografia, dove è stato istituito il primo premio di fotografia, conferito a Dario Coletti, grande fotografo italiano. Quindi, come vede, insomma, l'attività si sta sempre più rinvigorendo verso, diciamo, gli eventi finali che si concluderanno con la serata del 7 luglio. E a proposito di novità dell'ultima ora, siamo ormai alla stretta finale per il Flaiano di narrativa e anche quello di italianistica. Ieri avete reso noti anche i vincitori, che si contenderanno poi il Super Flaiano come sempre, il premio più importante nelle due serate di cui poi ricorderemo le date e soprattutto la logistica, l'ubicazione, perché insomma dovremmo parlare anche di questi temi. Sono, per quanto riguarda il Flaiano Over 35, diciamo quello senior, i tre finalisti sono Cristina Batocletti con epigenetica per la nave di Teseo, Antonio Franchini con il fuoco che ti porti dentro per Marsilio e Dario Voltolini in invernale, sempre della nave di Teseo. Per la Terna Under 35 sono già vincitori del premio Greta Olivo con Spilli per Inaudi, Vincenzo Reale per la fortuna del Greco per Rubettino e Marta Azzura Puntaroni per l'Olivastro di FQ. Ma questo, diciamo, al di là del lavoro della giuria che insomma è aumentato, mi pare di capire, a livello di mole perché poi vedremo anche il numero dei partecipanti e tutte le cifre che ci darà Carla Tiboni, dimostra che il Flaiano sa anche rinnovarsi e esplorare autori che poi grazie al Flaiano diventano anche protagonisti nelle vendite e nel giudizio dei lettori, è stato sempre così. Sì, è stato sempre così quest'anno in particolare, oltre alla straordinaria partecipazione, 89 titoli sono tantissimi e il lavoro della giuria devo dire che è stato non soltanto qualitativamente eccellente ma è stato anche insomma gravoso perché i libri vi assicuro vengono letti tutti, c'è una serietà nella giuria che fa onore al Flaiano ma soprattutto alla giuria tecnica presiduta da Renato Minore, ricordiamolo. Il fatto che tanti autori, tanti case editrici, dalle più importanti anche a quelle più piccole partecipino per il Flaiano è anche un segno un po' dei libri che vengono scelti proprio per il Flaiano, sono libri che hanno un po' quel minimo denominatore dell'impronta di Flaiano, si parla molto della libertà, sono libri che parlano anche dell'anticonformismo e quest'anno in particolare ritorna molto il tema della famiglia, la famiglia vista non soltanto dal punto di vista tradizionale, la famiglia vista in modo moderno dai ragazzi, la famiglia ritrovata, la famiglia di cui si ha desiderio di comporla. Questo direi che è forse l'aspetto che fa crescere ogni anno di più i premi Flaiano e penso che più di questo non si possa desiderare. Certo, visto che siamo in tema di narrativa, di letteratura, nel ricordare che oltre ai titoli di cui abbiamo parlato la premiazione riguarderà anche ospiti, alcuni dei quali a sorpresa, diamo anche la data, avvocato Tiboni e la location che in questo caso rimane quella tradizionale del Flaiano narrativa. Sì, il premio si terrà il 30 giugno presso l'Aurum, nel piazzale Michelucci e quest'anno direi che la novità ulteriore dei premi, ricordiamo sempre che la votazione avverrà in diretta, quindi ci sarà una partecipazione anche da parte dei giurati della giuria popolare, è stato l'aumento a 200 lettori della giuria over. Perché? Perché c'è stata una richiesta, una grande richiesta da parte dei lettori. Che bella notizia. Che bella notizia, sì. Una bella notizia sia per i premi ma soprattutto perché si è tornato evidentemente a leggere con uno spirito diverso, con uno spirito anche curioso, di curiosità perché come ricordava lei, insomma i libri e i titoli dei premi Flaiano sono sempre titoli un pochino alternativi rispetto agli altri due premi, allo strega e al campiello, diciamo sono anche un pochino più anticonformisti. Quindi questa partecipazione, questa richiesta ci rallegra ma nello stesso tempo rende ancora più intensa la competizione. Questo vuol dire però anche che oltre ad essere libri che poi lanciano scrittori nelle successive competizioni magari e portano fortuna come è accaduto persino dai premi Nobel, sono appunto frutto di un lavoro davvero scrupoloso, di una giuria di altissimo livello presieduta da Renato Minore, ma io voglio ricordare anche Giulio Alberico, Fabio Baccà, Donatella di Pietrantonio che sono tre romanzieri del nostro Abruzzo davvero di spessore nazionale e internazionale, ma anche la collega Maria Rosaria Lamorgia, Elena Led, Raffaele Manica, Raffaello Palumbo Mosca, Andrea Velardi, Giulia Galeotti, critici letterari, giornalisti, colleghi di assoluto valore. Poi appunto le scelte sono state sempre premiate, adesso ricordiamo proprio se ne è parlato perché purtroppo è venuto a mancare nelle ultime ore la Smanro che è stata sostanzialmente rilanciata in Italia proprio dal premio Flaiano. Flaiano che per chiudere il discorso sulla letteratura sta per proporre nuovamente questa innovativa sezione dedicata alla poesia. Sì, il 22 giugno ci sarà la seconda edizione del premio di poesia, sempre presso l'Aurum. Stiamo lavorando, cioè come tutti gli eventi vanno costruiti, anno per anno vanno aggiunti degli elementi, tolti altri. Quest'anno siamo alla seconda edizione e devo dire che anche questa seconda edizione ha una novità perché la Giulia Under si è arricchita della partecipazione degli studenti della Facoltà di Lettere dell'Università d'Annunzio. Questo cosa vuol dire? che abbiamo sempre auspicato che i premi Flaiano potessero interagire con l'Università, comunque con le realtà culturali circostanti pescaresi e dell'Abruzzo e questo evidentemente sta avvenendo perché i premi Flaiano riescono a catalizzare l'attenzione culturale e questo non può che aiutare tutti in uno scambio culturale che è fondamentale ed importante per far crescere anche la comunità. E poi ci sono tutte le sezioni dell'audiovisivo che regaleranno una grande serata di gala, stavolta in una cornice per necessità ma anche per il rilancio di un'idea di voler sfruttare lo spazio più identitario della città a Piazza Salotto. Sì, il 7 luglio siamo a Piazza Salotto per la serata finale, cinema, teatro, televisione, giornalismo e insomma è una organizzazione differente, un po' più complessa, ci sarà ovviamente la possibilità di accogliere più spettatori ma secondo me ci sarà anche un messaggio che viene lanciato alla città. I premi Flaiano a Pescara sono rimasti per diversi motivi che io ho spiegato, però è giusto anche che ci sia questo abbraccio da parte della città e anche da parte del pubblico perché i premi Flaiano passano attraverso il pubblico. Ecco appunto, io non voglio entrare in polemica anche perché siamo in periodi elettorali, potrebbe essere tutto frainteso, insomma abbiamo seguito tutte le discussioni che ci sono state, però un punto che è un dato di fatto vorrei che lei lo commentasse, cioè si era detto che Cara Tiboni avesse affrontato queste battaglie per il premio Flaiano con qualche recondito scopo politico elettorale, a me non risulta che lei sia candidata a queste elezioni comunali o ad altre elezioni, quindi probabilmente è stato un calcolo, cioè probabilmente un retropensiero sbagliato da parte di qualcuno. No, io non sono assolutamente candidata, credo che sia stata una forma, mi passi il termine senza voler polemizzare, una forma di strumentalizzazione nei miei confronti per voler in qualche modo colpire l'indipendenza dei premi Flaiano. I premi Flaiano non riescono a non essere indipendenti, devono essere indipendenti così come lo era Ennio Flaiano e non c'è bisogno, credo, di avere una resistenza perché questa realtà culturale può soltanto arricchire Pescara, l'Abruzzo, l'Italia, come abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando negli anni. Tornando appunto alla serata finale, ecco, sarà difficile dopo lo straordinario successo di Fiorello inventare qualcosa che, insomma, anche perché il cinquantenario poi deve rimanere negli annali, inventare qualcosa che possa davvero eguagliare quella serata indimenticabile che penso segni la storia degli eventi nella città di Pescara, però io penso che ci sia qualche grossa sorpresa all'orizzonte per quello che possiamo anticipare. Allora, io non posso anticipare ancora nulla perché ci sarà la conferenza stampa, come sapete, di presentazione dei premiati, però vi assicuro che sarà una serata che non ci farà rimpiangere, diciamo in minima parte, la serata della cinquantesima edizione. Ci sono degli ospiti importanti, ospiti internazionali che arricchiranno il 7 luglio con la loro presenza. Premiati molto importanti, anche qui le giurie hanno lavorato molto bene, hanno lavorato con difficoltà perché soprattutto il cinema quest'anno ha avuto una stagione straordinaria e quindi scegliere non è stato semplice, ma come sempre poi la scelta finale è stata di qualità. E soprattutto sul cinema abbiamo grandi attese, anche perché il direttore del Flaiano Film Festival, il cui vorrei dire qualcosa proprio in chiusura di questa nostra chiacchierata, vale a dire, Riccardo Milani è l'uomo dell'anno, diciamo anche la sua famiglia in senso esteso, pensando a Paola Cortellesi, a quanto vogliano bene all'Abruzzo e in particolare ai premi Flaiano. Quindi ci terranno nelle scelte dei film e dei protagonisti, penso soprattutto Milani in questo ruolo, a regalarci un bel Flaiano Film Festival. Sì, ci sarà, diciamo i film sono stati già selezionati per il Flaiano Film Festival, posso anticipare che ci sarà ovviamente anche un omaggio a Mastroianni, perché quest'anno ricorre il centenario, però devo dire e devo ringraziare ancora una volta pubblicamente il regista Riccardo Milani perché lui non ha soltanto, nel Flaiano Film Festival non ci mette soltanto la sua professionalità, ci mette anche tutta la passione che ha per l'Abruzzo, che è tantissima, così come, mi permetto di rubare pochi secondi, così come gli sponsor hanno una passione. E quest'anno c'è una grossa novità, perché una delle più grandi imprese di questa regione ha deciso di essere compagna di viaggio del Flaiano. Sì, quest'anno abbiamo la Toto Holding, che è diventata main sponsor insieme alla Biper, c'è poi De Cecco, c'è Autobruzzo, insomma ci sono soltanto la Coppia, ci sono tanti sponsor, perché comunque gli sponsor del premio Flaiano vengono selezionati. È importante per me sottolineare questo, che grande imprese come la Toto Holding rientrano nel discorso dell'impresa cultura che Flaiano sta facendo da tanti anni e queste grandi imprese aiutano i premi Flaiano e i premi Flaiano in qualche modo aiutano anche queste grandi imprese a dimostrare che non c'è soltanto una finalità di lucro, ma c'è anche una volontà di far crescere il territorio, di voler lavorare per il territorio, perché in fondo queste imprese sono partite dall'Abruzzo. Ed è bene che questa stessa considerazione abbiano nei confronti di questa realtà così straordinaria, così importante per l'Abruzzo, ma anche per, soprattutto per Flaiano, che debbano avere le istituzioni pubbliche che vi sono vicine, ma a volte hanno qualche difficoltà di interlocuzione, diciamo così. Va bene, allora noi avremo modo, Avvocato Di Boni, di vederci spesso, perché voglio ricordare anch'io che RT8 è media partner dal punto di vista delle dirette che proporremo sempre a beneficio dei nostri telespettatori, abruzzesi, anche italiani e esteri. Tanti abruzzesi ci seguono attraverso lo streaming in quelle due serate delle finali di letteratura e delle altre sezioni del premio, quindi saremo come ogni anno in diretta, grazie alla collaborazione del premio Flaiano, ma avremo anche altre finestre in cui man mano che andremo avanti, in questa fase iniziale dell'estate, verso gli approfondimenti legati al Flaiano, ci vedremo sicuramente, avremo modo anche di sentire i vari protagonisti. Grazie ancora e buon Flaiano a tutti. Buonasera, grazie.